Ciao umani, benvenuti alla festa, benvenuti nella terribetta, vi andiamo a riunirci qui per cercare insieme un futuro migliore, una risposta definitiva, una vera alternativa, ma già sappiamo anche dove troveremo e domani saremo ancora morire nervosi, squilleranno cento mila figlie, squilleranno milioni di cellulari, ci sarà rumore, ma il rumore, ma non importa, ora siamo a voi, e nel mondo grazie a tutti davamo, è giunto l'ora di spegnere il cervello! Grazie a tutti!